oggi la crew di per tg torna live siamo tantissimi qui siamo vicino a me c'è Jacopo che oggi compie ben 32 anni poi abbiamo sempre la nostra opinionista di fiducia Silvia Conca dall'altra parte del tavolo lontanissima da noi mi senti Silvia ti sento benissimo dovevi fare tipo isola dei famosi rifacciamo mi senti Silvia non guardo l'isola dei famosi dai collegamento esterno ci sono quei due secondi di là Alessia sì ti sento capito così e insieme a noi abbiamo un super ospite oggi che finalmente riesco a conoscere perché sento il suo nome da mesi Lino Garbellino buonasera a tutti benvenuto benvenuto è un po' sound system il sound abbiamo anche Sara ciao Sara però l'abbiamo ammutolita per oggi finalmente prima ha litigato con tutti mamma mia c'è la chiamata su un bordello tipo Blanca Sanremo l'altra volta sì sì la prossima volta ci muoviamo di rossi abbiamo denunciata non io perché insomma la parte di Sara sempre comunque Sara ma siamo qua con Lino Gaberlini perché chi sei Lino? urca che domandone quanto tempo abbiamo? innanzitutto è un mio amico perché voi innanzitutto è tuo amico piccola premessa alla puntata nelle settimane scorse abbiamo avuto un po' di cambi di puntate che non si incastravano quindi nel pensare alla programmazione ho deciso di invitare solo amici e gente che non poteva rifiutare e allora ho pensato immediatamente a Lino che ha in ballo delle cose per il pertini comunque e nella sua infinita bontà esatto esatto poi gli offrirò un aperitivo poi a fine puntata gli spiegheremo la sorte della pianta che ti ha regalato esatto breaking news no ma è viva? mi basta sapere sempre a fine puntata a fine puntata un po' di rigore niente spoiler per carità Alice ti ha fatto una domanda chi sei? tu sei un personaggio eclettico e quindi abbiamo un lungo elenco di titoli da attribuire bene prendo eclettico in senso buono certo allora io principalmente sono giornalista da non ti dico quanti anni se no mi dai del vecchio abbiamo appurato che hai tipo 22 anni no? no sei 96? sì oggi è il giorno in cui dico che sono del 96 faccio giornalista da un po' di anni mi sono sempre occupato di tecnologia quindi ho seguito tutti gli sviluppi di questo fantastico mondo del digitale in particolare dei social dall'interno e dall'inizio in questo mondo dove spuntano tu lo sai meglio di me esperti come i funghi io mi occupo di queste cose da una vita questo mi dà una certa credibilità per cui ho scritto 5 libri su questi argomenti adesso insegno questi argomenti sia per l'ordine dei giornalisti sia per un'università in Svizzera sia poi per mille altre realtà tra cui il mitico CSBNO che è il motivo per cui siamo qua oggi Cisbno come dice Alice Cisbno 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 da quando sono piccola dico Cisbno ah per carità tra l'altro potevano aggiungere ancora un paio di sigle più o meno c'erano dovevamo comprarle se compriamo una vocale magari alcuni libri di lì non sono nel catalogo del CSBNO quindi potete prendere il prestito gli altri potete comprarli brava io stavo suggerendo ma più che più cioè promuoviamo l'editoria che è in crisi va bene la biblioteca come spazio bellissima esperienza va bene guardare un po' il libro ma alla fine compriamolo questo libro i libri di Garbellini sono tutti disponibili su Amazon perfetto anche quello su Twitter che è stato il primo che io ho letto nel 2013 brava brava mi ricordo ho letto quello su Twitter quello sui blog e Professione Influencer Professione Influencer è quello che ha venduto di più perché anche adesso è un tema caldo ma ai tempi molto molto di più addirittura c'è stato uno sveglione che un anno dopo mi ha copiato il titolo del libro evitiamo stendiamo un velo pitoso e no è stata una bella esperienza abbiamo venduto parecchio ma soprattutto abbiamo fatto una bella promozione in tutta Italia sei venuto anche qua a promuoverlo a Pertini l'ultimo libro abbiamo fatto la presentazione a Pertini e c'era una mitica sciura che mi chiedo ancora oggi mi ricordo la sua domanda che aveva detto una cosa del tipo no bello questo su internet ma si fa anche cultura allora mi piacerebbe che internet fosse mio signora ma sì come ho appena detto si può fare cultura su internet no abbiamo fatto la presentazione ci guardi ah esatto signora ci guardi adesso segue anche le dirette e si ricorderà di me no è un bellissimo spazio di aggregazione del Pertini a me piaceva molto poi pur stando a Milano arrivo facilmente col tram è un nostro utente e ho un sacco d'amici qua esatto sono un utente ho un sacco d'amici qua intorno e mi piace proprio come è strutturato nel weekend lo trovate qui a lavorare ma soprattutto seguite il mio canale YouTube perché da qualche mese mi sono andato a questa avventura su YouTube quindi direi chiaramente mi trovate su LinkedIn che è il social che ultimamente uso di più e uso il mio canale YouTube da un lato per fare recensione per fare divulgazione sui miei temi diciamo così l'aspetto più giornalistico che possono essere la tecnologia le auto il mondo dello sport e dall'altra per dei video di approfondimento degli argomenti che faccio a lezione quindi i social tipo LinkedIn per il giornalista il personal branding come posso utilizzare Twitter in determinati ambiti piuttosto che gli NFT in metaverso io che stamattina cercavo un master per diventare social media manager e marketing specialist guarderei i video su YouTube guarderei i video su YouTube lei è la nostra social media manager quindi il canale è su YouTube c'è Catellino Garbellini mi trovate naturalmente va bene prossima domanda vai tu che ti vedevo va alla spinta Silvia beh parliamo appunto di quello di cui ti occuperai qui al Pertini perché siamo qui per questo noi diamo le notizie ad Al Pertini noi diamo le notizie ad Al Pertini sul Pertini certo e siamo qui perché terremo questo workshop con metodologia Lego Series Play qua bisogna stare attenti a tutti i termini perché su queste cose i danesi della Lego sono abbastanza poi ho fatto mettere anche il marchio registrato nel post quindi è un workshop con metodologia Lego Series Play di solito lo faccio alle aziende allora c'è da dire questa cosa premessa i Lego in ambito business per costruire dei workshop in ambito aziendale vengono usati in mille modi ok io all'università dove segno io in Svizzera ogni tanto fanno dei workshop per condividere la metodologia sono stato da questi tizi a verso Natale e usano i Lego nell'ingegneria informatica per capire far capire ai ragazzi i diversi modelli di struttura di un'azienda ma letteralmente Lego? cioè usano proprio i mattoncini? usano proprio i mattoncini Lego però li usano per far capire perché tu un'azienda lo puoi organizzare sostanzialmente non ti sto a fare Ford l'altro tizio da Toyota un'ingegneria gestionale che non è nemmeno nelle mie corde peraltro comunque per rappresentare questi diversi modelli far capire ai ragazzi come puoi strutturare l'azienda usano determinati Lego con dei gruppi di ragazzi quindi li puoi usare nell'ingegneria con questo metodo che hanno inventato loro ci sono dei tizi che fanno dei lavori in azienda mettono le persone in due stanze diverse e con un telefono alcuni devono dare istruzioni in una stanza gli altri costruiscono tipo Chinese Box esatto perché questo serve a far cooperare le persone piuttosto che 100.000 altri ambiti il Lego Sirius Play è stato inventato da una persona che faceva 20 e passa anni fa da una persona che faceva formazione in Lego quindi era esperto di formazione ad altissimi livelli e da quello che credo sia il nipote del fondatore della Lego hanno inventato questo metodo certificato sulle basi della teoria di Piaget si basa sul fatto che con le mani tu impari di più e fai delle cose con le mani che tirano fuori cioè parlano di te più di tante altre cose e tu stesso impari rispetto a quello che fai con le mani hanno brevettato questo metodo tu per poterlo utilizzare devi prendere questa certificazione io ho preso questa certificazione qualche anno fa dopodiché ci sono le finte certificazioni esattamente come io sono giornalista professionista ho fatto l'esame a Roma c'è gente che ha un blog e dice che è giornalista hai capito quella è la licenza ufficiale per poter utilizzare questo metodo che è un metodo scientifico cioè ha una serie di step in cui applichi l'ego per arrivare a determinati obiettivi ma comunque è un metodo inventato per fare le riunioni per far parlare le persone per farle veramente condividere noi faremo questa cosa al Pertini abbiamo deciso come tematica non vorrei anticipare le tue domande visto che mi guardi male no no vai a ruota libera sono un po' preoccupato sulla sorta della mia pianta noi al Pertini lo faremo come il tema sarà la leadership e rispetto a tutte le persone di un'azienda il workshop è aperto a tutti quelli che vogliono lavorare sulla propria leadership ma anche solo conoscere questo metodo perché poi magari fare un workshop nella loro azienda al solito come tutte le cose che faccio quantomeno io con CSBNO abbiamo mantenuto quello che una volta si chiamava prezzo politico quindi non è il vero prezzo che normalmente si paga per un workshop con metodologia a serio l'ego sito display ma è simbolico per dare la possibilità a tutti di venire e provare questa cosa un sabato mattina perché questo metodo è abbastanza impegnativo si partecipa molto quindi meglio farlo alla mattina è un metodo versatile lo puoi applicare a qualsiasi ambito di rimando hai sempre il team building perché di rimando queste persone fanno assieme una cosa si conoscono è una cosa che piace il lego piace a tu piace a tu chi è che non piace il lego tutti hanno avuto almeno un'esperienza nella vita con il lego si ma poi chi è che non piace effettivamente c'è stato uno che ho incontrato che mi ha detto non mi piace il lego però sono contento di fare l'uo io in casa ho un intero armadio di vetro con dentro eh ma noi abbiamo invitato invitato Jacopo in quanto nerd ufficiale del Pertini Radio ma volevo chiederti ma aspetta volevo finire una cosa per se non rimaniamo in sospeso dicevo vi rimando ai sempre il team building ma è un metodo molto versatile lo puoi applicare con diverse finalità e a qualsiasi tipo di gruppi quindi che sia la leadership costruiamo il nostro cliente ideale cerchiamo di capire come la tecnologia è impantato sul nostro business cerchiamo cercate di capire voi del Pertini Radio che cosa caratterizza la radio e come possiamo lavorare sul team e via dicendo basta scusami no volevo chiederti ma quindi questi workshop che tu organizzi sono hanno un target specifico o tendono ad essere avari nell'età di riferimento a cui vogliono approcciarsi molto vario dicevo è un metodo versatile vai una volta l'ho fatto con dei ragazzi delle superiori lo puoi fare anche i tuoi ragazzi non con quelli delle medie devono avere il concetto di metafora astrazione ok per cui se il ragazzo pensa che il mattoncino è solo un mattoncino tu non ce la fai a lavorare su qualcos'altro dopodiché io l'ho applicato a 100.000 aziende di ambiti diversi in questo anno e mezzo ai giornalisti a un'azienda che si occupava di treni a un'altra che vendeva prodotti di elettronica ad aziende di tutti i tipi quindi sì lo puoi applicare ovunque non c'è bisogno di una preparazione grazie a dirlo non ci sono slide la cosa che ho ritrovato che ho fatto di cosa sono due uno spiegare a quello che deve allestire i tavoli in aula come metterli annosa questione e io portarmi dietro i Lego perché quello è sempre un po' una rottura sono tuoi? sì sono miei ma quando li porti in giro il workshop di mezza giornata come quello al Pertini c'è un kit apposta tutto sommato abbastanza agevole quando devi lavorare tante ore tutto il giorno è un vero e proprio trolley e portarselo una volta l'ho dovuto portare in Svizzera in un posto è abbastanza complicata la logistica comunque sì si applica a tutti gli ambiti si tratta poi di capire qual è l'aspetto su cui vuoi far parlare il team quello è fondamentale perché è chiaro che mi è capitato di vogliamo fare il Lego Seguro Spay con un'azienda arriva quella del personale e gli dice vogliamo fare il Lego Seguro Spay bellissimo facciamolo fissiamo la data e gli dico ma su quale aspetto vuoi lavorare in particolare? ma un po' tutti secondo me voleva giocare con i Lego sì palese un workshop carino dove potrebbero partecipare tutti ma io ho due domande allora hai parlato di Lego adattabili comunque alla costruzione di una leadership ma in che senso cioè nel senso a me viene stato in mente il team building quando si può lavorare con i Lego cioè come si collega la leadership a bravissima adesso te lo spiego ok il team building ce l'hai nel senso queste persone lavorano assieme fanno una cosa che gli piace si parlano e quindi di rimando tu hai l'effetto team building come esattamente come una volta si andava a rampicare piuttosto che li portavi in barca o non so quale altre nefandezze con la roba che si sparano addosso le soft air ecco esatto una cosa così qui invece non ci si spara addosso si sta sulla scrivania ognuno ha a disposizione dei suoi Lego e poi se fai tutto il giorno poi ci sono dei Lego a cui tutti possono attingere e si incomincia a fare una sorta di riscaldamento che è costruisci la tua torre per cui attraverso la torre è un primo approccio per entrare nel mood come dicono quelle veri anzi usare il gergo tecnico è il flow entri nel flow di questo metodo per cui da un lato sta a cavallo tra il divertirti e lavorare effettivamente su delle cose tu costruendo un modellino se tutti noi costruiamo un modellino e dobbiamo costruire un modellino di una borraccia giusto Silvia? o della mia pianta defunta la pianta che andremo a rappresentare anche con gli stessi Lego sarà sempre diversa quando ce la raccontiamo indubbiamente il modellino volente o non volente rappresenta quello che ho in mente cioè la mia identità la mia modalità di pensiero quando te lo spiego ti sto spiegando il mio pensiero con una cosa che è l'oggettiva e quindi poi diventa più facile rappresentartelo e parlarne se lei ci rappresenta il suo modello di pianta tu il tuo lui il suo e noi ne parliamo e ci facciamo delle domande non su di te ma sulla pianta che hai fatto perché la pianta rappresenta la tua idea da lì riusciamo a costruire una serie di idee condivise che in questo caso è la leadership cosa ne pensiamo della leadership nel 2023 nell'ambito tecnologia radio quello che vogliamo piuttosto che altri aspetti ma i partecipanti del workshop fanno tutti parte di uno stesso ambito settoriale o sono tutti diversi di solito quando lavori in azienda è l'azienda quando l'ho fatto con l'ordine dei giornalisti i giornalisti nel caso del pertini sono persone che hanno una loro idea di leadership volevano parlare agli altri della loro idea di leadership sentire cosa ne pensano gli altri e magari fare in modo che questa esperienza sia arricchente io la leadership nella mia azienda la rappresento così e faccio un omino in cima a una piramide con gli altri sotto tu mi dici sì ma guarda siamo nel 2023 anzi sopra metto il maschio sotto le femmine guarda che siamo nell'era dell'inclusione e poi non è proprio esattamente così non siamo negli anni 70 e quindi iniziamo a parlare e tu mi fai vedere un modellino in cui tutti sono alla pari in cui magari quello davanti tiene in mano una lampadina e la lampadina rappresenta l'illuminazione e gli spunti che il manager deve dare agli altri ok ok guarda lo faremo anche in radio sì sì ma io ho notato che tu stai cercando di venderci questa cosa io lo compro se avessi soldi lo comprerei ma non sono quella che tiene la tesoriera della radio non è quello il problema possiamo farlo anche fri non è quello ti stavo trasmettendo il fatto che questa è una cosa utile e bella il venditore non è mai stato il mio ruolo ma io scherzavo stavo pensando che è un metodo molto interessante per chi come me è introverso però stavo anche pensando che io da introversa in questo mio team mi trovo molto bene il team di Pertigi e poi stavo pensando che ci sarebbe una problematica perché ho visto che una delle regole è spegnere il cellulare e guarda le vanno sempre in crisi io sono multitasking io ho questa abilità di poter seguire il telefono non ci crede nessuno e ascoltare tutti quanti e comunque dare la mia bellissima presenza in questo programma radiofonica ti racconto questa cosa un importante brand di auto fa dei corsi ai giovani per insegnarli a guidare ok e per fargli capire quanto se tu ti distrai anche solo un secondo a 60 all'ora questo si riproduce in un ritardo sulla velocità che vuol dire che tu ammazzi in pratica in sostanza e una delle prove con questo brand era fargli scrivere un sms ai tempi c'erano gli sms adesso lo fanno con il whatsapp mentre i ragazzi guidano sono talmente multitasking i ragazzi di oggi questo l'hanno fatto in tutta Italia quell'anno su tutta Italia l'avranno fatto ne so a 10.000 ragazzi ce n'è stato uno che è riuscito a schivare i birilli e mandare veramente l'SMS è un professionista sì loro si sono spaventati perché questi ragazzi sono dissociati siamo arrivati a un livello no più seriamente adesso parte questo aneddoto simpatico con il Lego Serious Play si lavora a blocchi di 20-25 minuti in quel 20-25 minuti in cui tu costruisci ascolti il parere dell'altro e scambi idee spegni il cellulare beh ma quello si può fare finiti 20 minuti c'è un momento di relax che serve per scaricarti per svuotarti la mente perché poi devi lavorare su altre cose poi è un metodo che effettivamente ti consuma un po' di energie perché la partecipi scambini con gli altri e lì puoi guardare se ti ha scritto il fidanzato piuttosto che se la videocamera se il tuo gatto sta mangiando a casa con la videocamera beh un po' la pomodoro technique che c'è sotto 20 minuti di studio intenso cioè io lo applicavo allo studio quindi 20 minuti di studio intenso 5 minuti di pausa sì o il metodo Galloway nella corsa corri 5 minuti cammina 1 era una roba del genere sì nello studio era più carino perché c'era la cosa pomodoro va bene Silvia anche tu guardami il foglio vai ma io perché ho dimenticato a casa il cellulare davvero? sì veramente? se l'hanno rubato? no no è morto come la pianta ah no scusate ho portato ho portato il cellulare sbagliato perché lo sto cambiando ho portato quello senza sim ok va bene sei perdonata allora passerai alla storia come l'unica che ha ammazzato un cactus che non muoiano nemmeno anche mia nonna però l'aveva ucciso una volta allora abbiamo regalato le piante finte e gli ha dato l'acqua alle piante finte ogni volta che andavo a treguardo mi diceva guarda come sono bella gli ho dato l'acqua gli ho detto no no non dovevi dargli l'acqua però vabbè ma io vorrei sapere se hai qualche case history interessante su questo metodo magari in qualche azienda eh ma non possiamo svelare i segreti aziendali c'è il segreto professionale nel workshop senza riferimento segreto industriale mi è capitato ho visto funziona tantissimo con i freelance cioè tu hai le tue idee di un'azienda devi ancora costruire il tuo modello di business devi tirare fuori delle cose rispetto a quello che vorresti fare come freelance e quello che sei adesso magari hai delle idee tue che è un po' che ti girano in testa ma non te le sei ancora rappresentate questo serve tantissimo l'altra cosa che è una sorta di case history che mi ha lasciato perplesso è che le aziende ti fanno fare il metodo work show lego serious play si diverte cioè piace perché piace sempre lo applichi in azienda vengono fuori delle cose grosse dei temi grossi tipo il nostro problema è di strategia piuttosto che il nostro problema è il capo che non funziona una volta uno fatto veramente la piramide con sopra un teschio che era il capo c'è un modellino di uno scheletro e ha detto tu cosa faresti per migliorare l'azienda lei ha preso la biro ha tirato giù lo scheletro dalla piramide coraggiosa il limite è vero col capo lì a fianco si il capo era al tavolo e ha fatto ah ok però dopo l'hanno iniziata a massacrare tutti lì il problema era veramente il capo ma tu al tuo capo non avresti mai il coraggio di dirglielo ma l'egosi due specie è un terreno neutro che serve per fare parlare le persone cioè a me non piace il mallone di Silvia è bruttino potevi venire con una maglia bianconera ma adesso seriamente non mi piace il mallone di Silvia non mi piace come si veste Silvia che vedo tutti i giorni al lavoro con questo metodo magari posso trovare uno spazio intermedio in cui posso suggerire ma la cosa che mi fa specie è che poi mi dà l'idea che l'azienda il valore è veramente utile che potresti applicare di cui ne potresti poi parlare in azienda e andarci a lavorare senza fare un secondo step legosi risplay ma a quel punto sai qual è il problema si interessa ma è il giusto l'importante è aver fatto un'attività e questa cosa giuro a me lascia perplesso Jacopo ti vedo silenzioso stai imparando perché in quanto nerd ci devi parlare un po' di di Lego raccontaci che Lego hai qual è il tuo Lego preferito che è a casa oddio ne ho diversi ho il Millennium Falcon di Star Wars no grande ce l'ho anch'io quale edizione hai quella del oddio del risveglio della forza se non sbaglio io ho quello 2017 ok che era quello di solo e fa sì che faccio confusione anch'io no era quello di solo perché c'è ok c'era anche un mio scusate l'apparente momento non conosco adesso chiediamo fuori i dadi e ci mettiamo qualcosa di Harry Potter o alcuni Lego di Lego Agents tipo anche il come è che era tipo il camion con il laboratorio dentro ah no bello quello anche tu Silvia io giocavo ai Lego quando andavo dalla cugina di mia madre no ma non è giocare io avevo i Lego Friends io avevo i Lego Friends bello anche quello quella è stata una svolta dal punto di vista dell'inclusione sì bellissimo perché c'erano delle forti pressioni sull'azienda perché non esistevano dei Lego per le bambine quindi quando li hanno presentati io sono stato a conferenza stampa adesso vado a memoria credo 2012 2013 era la novità di quell'anno perché erano per l'inclusione c'è una cosa fatta apposta per le bambine io ero già grande li ho voluti io stesso perché c'era il mio fratello che non mi ha potuto avere il Lego perché non erano molto per me e li ho presi con i Lego Friends fatto bene storia femminista a me manca poi avevano un sacco di pezzettini interessanti in realtà facilmente ingoiabili dei bambini no vabbè c'erano dei pezzi unici in quei set Lego Friends che invidiavo mia sorella devi andare a Billund Billund è questa mitica località in Danimarca dove è nata la Lego e praticamente tu devi andare a Copenaghen poi l'unica possibilità che hai è tipo noleggiare una macchina in un paese che già è costoso di suo ti fai il ponte quello è lunghissimo no il ponte va in Svezia devi rimanere in Danimarca ok potresti partire dalla Svezia e andare là bravo ti fai il ponte al contrario arrivi a Malmo che spendi un po' meno e poi vai a Copenaghen vabbè arrivi e c'è il museo c'è lo store e c'è l'hotel tutto di Lego bellissimo ma non sono mai andato bellissimo io mi esalto anche solo andando al gigante vedendo quei pupazzoni di Lego che fanno il termine tecnico pupazzoni sì quando vado in un centro commerciale il giro nella sezione Lego la faccio sempre certo vabbè minimo però costano troppo questa è la mia ultima opinione riguardo va bene andiamo verso la chiusura quindi un buono sconto per lei per favore momento polemichetta abbassatemi un po' i pezzi di Lego ma voglio fare una domanda tu sembra l'ultimo quando stiamo chiedendo pseudo personale in realtà non so se conosci l'azienda Bricks for Kids Bricks for Kids è un'altra delle centomila applicazioni di Lego a un target specifico certo perché io ho avuto modo di lavorare con loro bella applauso alla collega no io ho avuto modo di lavorare con loro per dei workshop su Minecraft nel periodo pandemico dove non potevano lavorare con i Lego per motivi ovviamente di assembramento allora si erano tenuti questi workshop online su Minecraft e io ho lavorato più con i bambini in quel caso ed è stata un'esperienza interessante attenzione è diverso però da Lego se lo specifo e lo hai inventato per i ragazzi e vai a lavorare su cose diverse no lo so infatti lì era meno serious diciamo era più un far giocare insieme cercare di far collaborare i bambini a giocare insieme a un progetto comune e effettivamente quei bambini è molto più difficile da gestire come cosa io ho come si chiama il patentino come dice la FIP di allenatore da mini basket e pensavo ho giocato a basket una vita ho sempre creduto che fosse il mio futuro ho fatto due mesi cioè ci devi essere portato a lavorare con i bambini cioè io giocavo abbastanza bene a basket mi è sempre piaciuto il basket insegnare i bambini è qualcosa che non ha a che fare con il basket perché i bambini ci servono altre skill altre competenze che è un altro mondo quindi fai quanto ti capisco poi sono sopravvissuto ne ho fatti quattro di quei workshop in totale bene informazioni pratiche innanzitutto bisogna portarsi qualcosa no no? la buona volontà no seriamente non bisogna portare nulla c'è un video sul mio canale youtube che cssbno comunque lo trovate sulla cercate su google cssbno lego sirius play garbelini è il 25 febbraio se non sbaglio sabato sì dalle 9 alle 13 esatto comunque sul mio canale o su quella pagina trovate il rimando a questo video nel video che dura due minuti e mezzo è una sorta di introduzione di cosa dovete aspettarvi se venite al workshop non dovete portare assolutamente nulla tranne il cellulare per fare le foto dei modellini che costruite e poi spegnerlo e poi spegnerlo no prima spegnerlo poi dopo che hai costruito a fotografare piuttosto che un blocco degli appunti perché chiaramente questo serve per far emergere delle cose sarebbe stupido tu mi insegni poi non appuntarsene certo oltre che non so una torta per il facilitatore alla fine del workshop aperitivo aperitivo fra poco aperitivo offerto offerto da Silvia Conca un bel applauso in memoria di una pianta Sara forza bene possiamo confermarti che la pianta è deceduta ufficialmente dopo due giorni è stata è stata una tragedia perché le piante grasse di mia madre ma come hai fatto ma come hai fatto lo sei versato sopra dell'acido muriatico no mi hai detto di metterla in balcone l'ho messa in balcone e è morta invece te ne porto un'altra e una anche per loro anche tu vuoi la pianta ma sì perché no c'è mia sorella che ha un cadavere di cactus ancora sulla scrivania non vuole liberarsene non so perché intrigante un po' mercoledì Adams l'ultima roba sul mondo Lego chiaramente siete tutti invitati al nostro workshop secondo me vale la pena sia per sperimentare questo metodo sia per lavorare su quello che è la vostra leadership il concetto di leadership e come poterlo applicare al vostro team perché non c'è solo la leadership dell'amministratore delegato c'è anche all'interno del mio team per esempio un'azienda di cui gestisco il canale LinkedIn l'approccio è una leadership soft quindi in questo caso il manager di questa azienda potrebbe lavorare come effettivamente come declino la mia leadership soft secondo me il tema interessante di cui si parla sempre di più è la gamification applicata all'azienda in cui rientra anche il Lego Serious Pay cioè utilizzare puoi partire dal design thinking con i posti piuttosto che utilizzare il metodo Canva il suo modello di business personale queste cose fatte in azienda secondo me rendono veramente sono un valore che puoi offrire i tuoi dipendenti e danno dei risultati infatti se guardi dicevi mi hai fatto venire stai per dire una cavolaggia ti vedo mi hai fatto venire voglia di Lego quindi la prossima volta andrò al gigante smonterò il pupazzone e ti porterò lo porti qua e facciamo il serious play noi ce lo inventiamo tramite i suoi video su YouTube ce lo inventiamo tecnicamente parlando è furto però ma no ma no a meno che non lo rivendichi come appropriazione proletaria certo è proprio proletario una mossa politica siamo prontissimi per la rivoluzione domani è arrivata l'ora X lei deve fare le stories poi certo pronto a documentare è un attimo che devo prendere quelli mi sa che me lo ricordo a memoria perché sono è arrivato il momento della promozione degli eventi della settimana che questa settimana sono solo due quindi è più facile e dunque in auditorium non riesco mi dispiace in auditorium domani alle ore 21 c'è uno spettacolo dedicato al giorno del ricordo su Abdon Pamic un grande atleta grande marciatore guardolino perché appunto anche giornalista tu Lino sei un runner devi conoscere non lo conosco i marciatori non sono il mio ambito mi dispiace però verrò di sicuro certo in auditorium alle 21 invece sabato ne abbiamo parlato la settimana scorsa ci saranno i nostri amici filosofi parliamo di filosofia in sale incontri alle 16 avete insomma vi siete già informati su come accedere perché se non l'avete fatto ricuperate la puntata di settimana scorsa su Spotify e su Youtube sempre digitando il Pertini Radio e quello con l'icona del nostro logo che vedete in sovrimpressione probabilmente sotto la mia ma in realtà è ancora anche su Twitch durano due settimane su Twitch due settimane è vero ancora su Twitch sì vabbè trovate tutto qua sotto la mia quindi niente Sanremo ma seguite le puntate no seguite anche Sanremo perché noi seguiamo anche Sanremo tutti i giorni alle 16 domani vi ricordiamo come è successo anche un'oretta fa ci sarà anche domani il commento la puntata purtroppo non ci sarò io ma tornerò sabato sera e poi ci sarà la finale live anche tu ho chiesto un'espertissima che mi ha detto che si seguono le prime due puntate poi ci si prende una pausa così si va a dormire presto e poi il venerdì perché ci sono i duetti e il sabato perché stasera è un po' inutile se ci pensiamo cioè tanto oggi ho sentito le canzoni ma sai qual è la cosa bella di oggi che non ci sono i siparietti in mezzo sono molto ridotti come è andata Ariete come è andata marino bella canzone ma bella steccata di brutto io ho portato il suo fidanzato a vedere il concerto di Ariete a sesto eravamo io il suo fidanzato è una schiera di adolescenti urlanti perché a me piace un sacco Ariete si è divertito perché data l'altezza media riusciva a vedere tutto anche da dietro poi anche Ariete è bassina no brava lei ultimamente se non è un po' svoltato stile facciamo una puntata su Ariete va bene ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato adesso ne parliamo fuori onda vieni domani a commentare Sanremo sì c'è anche il rapper che mi piace un sacco per me Sara vince grande anche a me piace quella canzone anche a me anche a me va bene grazie a tutti grazie mille Lino per essere intervenuto oggi qui con noi 25 febbraio iscrivetevi sul sito del CSBNO Lino vi aspetta vi aspetto come dice Ronaldo vi aspetto va bene ciao ciao ciao